ciao ragazzi partita appena terminata milan batte juve 1 a 0 quindi ci siamo obiettivo raggiunto siamo in champions abbiamo ancora la possibilità di arrivare quarti senza sentire dovesse sentir dire che senza penalizzazione saremmo arrivati quinti dobbiamo vincere col verona domenica vediamo se la juventus riuscirà a farlo a bergamo altrimenti arriveremo quarti in classifica e tutti zitti e mosca grandissimo gol di olivier girou gol bellissimo gol fantastico però la partita di stasera non deve anzi è una conferma di quello che ci manca perché stasera ho visto tanti errori tanti errori tecnici la partita secondo me nel secondo tempo la dovevamo chiudere avevamo la enorme possibilità di chiudere la partita e se non l'abbiamo fatto è per una mancanza a livello tecnico mancanza a livello tecnico che adesso dovremo colmare sul mercato perché adesso non c'è più l'incertezza di quello che faremo la prossima stagione quindi si può partire con un piano di rafforzamento che sia veramente di rafforzamento adesso ne parliamo parliamo un attimino dei singoli però mettete un like per il milan in champions mettete un like per il canale per far crescere il canale mettete un like perché è gratuito iscrivetevi al canale perché ci saranno tante cose da dire e ci sarà da fare una bella pressione sulla società perché faccia un mercato importante perché abbiamo bisogno di un mercato importante perché avete visto anche stasera il gol è una magia di girù ma dietro girù il nulla origi è entrato un fantasma si è dovuto prendere dopo cinque minuti che era in campo neanche forse un bello svegliati da pioli perché è entrato in letargo come tutta la stagione avete visto che messiasi i limiti vuti nel primo tempo con tanti errori avete visto sala me che quando è entrato a livello tecnico anche lì qualche errore poteva fare meglio e poteva fare di più insomma anche stasera abbiamo avuto la conferma che l'intelaiatura c'è la base per una bella squadra c'è ma vanno fatti i rinforzi giusti perché girù non potrà giocare tutte le partite e non possiamo permetterci se non c'è girù di non avere nulla dietro di lui non ce lo possiamo permettere le house stasera male non mi è piaciuto ha sbagliato tanto non è stato incisivo nel secondo tempo avrebbe dovuto chiudere la partita quindi andiamo veloci a fare le pagelle così a caldo ho tutto in mente mi ricordo tutto mignon 7 perché ha dato sicurezza alla squadra non ha sbagliato nulla una bella parata nel primo tempo deciso nelle uscite sicuro mignon 7 lui è la base calabria partita da 6 e mezzo diciamo non ha sbagliato molto non ha sbagliato anzi poco niente e dalla sua parte si ha tenuto bene kostic quindi 6 e mezzo ciao 7 lui e tomori insieme a girù i migliori in campo secondo me da lui non si passa bell'acquisto e possiamo dire che dalla campagna acquisti così così della passata stagione ci ritroviamo un gran difensore tomori 7 anche lui partita perfetta non ha sbagliato nulla lui e ciao granitici teo 6 teo 6 teo ha finito la stagione in discesa poco poco reattivo poco preciso nelle sovrapposizioni 6 a teo crunic crunic del croce delizia perché si si sente l'importanza lì in mezzo ma quanti errori quanti errori quindi faccio una media faccio 6 tonali 6 e mezzo primo tempo da 7 secondo tempo da 6 perché probabilmente anche lui non ce la faceva più quindi 6 e mezzo a tonali andiamo davanti alle note dolenti messias 5 male male nel primo tempo tanti errori ammonito male non ci siamo diaz diaz visto poco si è visto poco 5 e mezzo le ha o male oggi non mi è piaciuto per me le ha oggi è da 5 malissimo il primo tempo un po meglio la ripresa ma doveva incidere c'era la possibilità di andare ha avuto una grande occasione la tirata alle stelle deve migliorare in questa cosa nel tiro in porta deve assolutamente migliorare quindi per me 5 girù mi do il migliore in campo perché fa un gol strepitoso di una difficoltà incredibile di una difficoltà pazzesca quindi si prende il 7 e mezzo e l mvp mister pioli 7 perché l'ha impostata bene e anche lì quando si gira dalla panchina si mette secondo me le mani nei capelli che non ha perché anche stasera abbiamo visto che giro non stava più in piedi è uscito giro dopo un minuto già lo ripiangevo quindi questo è tutto dire i subentrati diciamo che ma non ha giocato molto quello che ha giocato un po di più è stato sala maker riprende un 6 nella sbaglia anche lui un controllo che l'avrebbe messo davanti al portiere poi si si fa parare il tiro da sceglie un 6 poteva fare meglio gli altri senza voto perché hanno giocato poco non a parte orighi che sarei tentato di dargli il voto perché è un record entrare dopo due minuti sentirsi gridare dal miss e svegliati è veramente qualcosa di clamoroso domani parliamo di questa cosa di orighi perché oggi iniziate sono iniziato a sentire già le voci sostenere che in realtà non si può vendere e perché non usufruiremmo del decreto crescita perché non dovrebbe fare i due anni e perché non ha mercato e perché non vuole andare via allora su questo punto dobbiamo essere chiari su questo punto dobbiamo essere chiari se orighi non se ne va dovrà essere considerato la terza punta ok siamo chiari su questo vorrà dire anzi facciamo così la quarta punta alla terza ci mettiamo un bel giovane o nastio colombo o un bel giovane da portarci in casa da far crescere poi abbiamo olivier geru e poi prendiamo un grande attaccante per favore se non possiamo vendere orighi perché orighi vuol fare il baccaio co della situazione allora se orighi vuol fare il baccaio co della situazione sia considerata la quarta punta perché quando lo mette in campo è una cosa veramente quando è partito in contropiede nel finale di partita cioè ragazzi è partito gli ha portato via l'uomo sala maker dovevi semplicemente spostarti la palla e andare all'uno contro uno ha dato una palletta moscia moscia sala maker ma una palletta inconcludente inutile io la chiamo la palletta della paura quelle pallette di chi non si vuol prendere responsabilità quando sala me che gli ha fatto il taglio per portargli via l'uomo lui deve semplicemente spostare la palla e attaccare l'uno contro uno no ha giocato quella palletta a sala me che è inutile perché sarà me che gli ha solo fatto un taglio per portargli via il pallone male 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 se vuol fare il baccaio co della situazione sia considerato il quarto attaccante il terzo un giovane ripeto il secondo oligiru meraviglioso è una punta che faccia gol perché la differenza tra noi e gli altri soprattutto quelli là è solo lì davanti è solo lì davanti per il resto non c'è differenza è lì davanti se noi sistemiamo lì davanti e mettiamo un bel centrocampo forte con due centrocampisti uno al posto di Krunic con Krunic pronto a entrare quando c'è bisogno ma con uno al posto di Krunic e con uno al posto di Diaz lì noi sistemiamo la squadra quindi adesso ci siamo siamo dentro anzi abbiamo la possibilità addirittura di scavalcare la Juventus domenica prossima quindi si gioca per vincere domenica non avete scuse ragazzi mi riferisco a voi che fate il mercato alla società a Cardinale a Furlani a Baldini e a Massara non avete scuse adesso questa squadra va rinforzata perché l'intelaiatura c'è l'intelaiatura c'è il gruppo c'è abbiamo bisogno che si alzi lo spessore tecnico si alzi il numero dei gol e si alzi la fisicità della squadra abbiamo bisogno di queste tre cose tecnica fisicità e gol sarà il titolo del video e adesso tecnica fisicità e gol è quello che manca a questa squadra per portare a casa la seconda stella spetta a voi fare un buon lavoro ragazzi spetta a voi forza Milan a domani dal vostro bandito mettete un mi piace un like grazie se vi va iscrivetevi al canale bandito rosso nero ci sarà adesso da fare tanti ragionamenti perché sarà un'estate in cui dovremo tenere una bella pressione sulla società perché faccia ciò che deve fare ripeto fisicità gol e tecnica